Ciao ragazzi, qua come sempre Fede Tutorial e sono tornato finalmente con questo nuovo video. In questo video andrò a mostrarvi ben 6 programmi, tutti completamente gratuiti, disponibili sia per Windows 7, Windows 10, non fa nessuna differenza. Alcuni credo che siano anche disponibili per Mac, però la maggior parte purtroppo solo su Windows, e che spero potranno esservi utili se non li conoscete ancora. Prima di cominciare vi ricordo che ho fatto un altro video come questo, se ve lo siete perso ovviamente lo trovate qui sopra in alto a destra. Anche lì ci sono alcuni programmi molto molto utili, quindi finito di vedere questo video, mi raccomando, guardate anche l'altro. Detto questo non perdiamo tempo e iniziamo subito. Apriamo la classifica con Ditto, un programmino veramente semplicissimo, pesa pochissimo, e che mi ha permesso di risolvere sul mio PC un problema che riscontravo da tantissimo tempo. Ditto è un clipboard manager, ovvero permette di gestire, ma soprattutto salvare, la funzione più utile è quella di salvataggio, di tutto quello che copiate sulla vostra clipboard. Credo che esistano anche altri programmi, oltre a Ditto, che permettono di fare questo, però io conosco questo, funziona bene, quindi ve lo consiglio. Come sapete infatti quando copiamo un link, una scritta, un elemento, qualsiasi cosa, verrà salvata sulla nostra clipboard, che però automaticamente verrà sovrascritta nel caso copiassimo un'altra scritta oppure un altro qualsiasi elemento. Tramite Ditto potremmo avere una sorta di database che terrà traccia in automatico di tutto quello che copiamo, e poi potremmo ovviamente ripristinarlo, quindi ricopiarlo, quando vogliamo. Ci sono ovviamente tantissime opzioni, come per esempio anche la possibilità di editare un qualsiasi testo che copiamo su Ditto, comunque basterà selezionare una qualsiasi cosa che vogliamo incollare e poi premere invio e verrà incollata in automatico. Quindi davvero eccezionale, ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. Passiamo poi a un programma che ho scoperto anni e anni fa e da quel momento l'ho sempre utilizzato ma non ve l'avevo mai consigliato prima d'ora. Sto parlando di Media Human YouTube to MP3 Converter. Qui già dal nome si capisce un po' quello che fa, ci permette di convertire un qualsiasi video di YouTube ma non solo. Non solo YouTube perché supporta anche SoundCloud, Vimeo, Dailymotion, Facebook e altri che non ricordo. E ci permetterà di convertire l'elemento in formato MP3 addirittura anche in 320 kbps, quindi una qualità sicuramente più alta. Il funzionamento è davvero molto molto semplice, addirittura nelle impostazioni possiamo selezionare il capture automatico di tutti i link. In questo modo basterà solo copiare un qualsiasi link e il programma lo riconoscerà in automatico e lo incollerà pronto per essere scaricato. Ma secondo me una delle funzioni più utili di questo programma è la possibilità di scegliere i tag prima di scaricare l'elemento. Quindi possiamo scegliere l'artista e il titolo del brano prima di scaricarlo. In questo modo avremo tutti i tag perfetti senza nessun problema e sarà poi molto più facile trovare le nostre canzoni sul nostro computer avendo tutto sistemato a dovere. Inoltre un altro elemento che a me piace molto è che salva in automatico la copertina della canzone in questo caso o del video. È sicuramente un elemento in più che magari ad alcuni non interesserà però secondo me è una cosa fantastica. Ora passiamo a Kipirina. Non so se la pronuncia sia corretta ma fa niente. La cosa importante è che è molto ma molto utile. È un sostituto alla ricerca Spotlight che magari troviamo sui nostri iPhone o su Mac. E ci permette tramite una combinazione di tasti di richiamare questa barra di ricerca che ci permette di aprire un qualsiasi programma in pochissimi secondi sul nostro computer. Ha moltissime funzioni Smart. Ad esempio tiene traccia di tutto quello che cerchiamo in modo da farcelo trovare molto molto più velocemente le prossime volte che cerchiamo quel determinato elemento. Ha un tasto Tab per le funzioni veloci quindi ad esempio se selezioniamo Google Chrome e clicchiamo Tab ci compaiono tutte le possibilità che possiamo fare con quel determinato file eseguibile. Come per esempio aprirlo come amministratore oppure andare su proprietà. Tutto direttamente dal nostro desktop utilizzando solo Kipirina. Oppure un altro elemento che mi ha stupito tantissimo è la possibilità di avviare una ricerca direttamente sul desktop prima di aprire il browser. Ad esempio se scriviamo YouTube ci dà la possibilità di cercare ovviamente YouTube su Google sul nostro browser. Oppure di fare direttamente una ricerca su YouTube tramite Kipirina. E quindi in questo caso per esempio scrivendo il mio canale e poi dando invio lui automaticamente farà una ricerca su YouTube prima di aprire il browser. E io mi troverò subito tutti quanti i risultati appena aperto Google Chrome. Vi consiglio di provarla perché se ci prendete mano vi permetterà di risparmiare tanto ma tanto tempo. E poi secondo me è anche molto bella graficamente e fa il suo effetto. Poi abbiamo Everything. Un programma che potrebbe sembrare simile a Kipirina. Infatti ci permetterà di ricercare file. Ma in questo caso non possiamo aprire programmi oppure file eseguibili. Serve proprio per cercare qualsiasi tipo di file all'interno del nostro computer. Come magari alcuni di voi avranno già riscontrato la ricerca su Windows non è poi così veloce. Per cercare un singolo file all'interno di tutto il vostro hard disk richiede tantissimo tempo e spesso non lo trovate nemmeno. Mentre con Everything questo piccolissimo programmino che non occupa assolutamente nulla potremmo cercare in un modo molto semplice e istantaneamente qualsiasi tipo di file, cartella, file eseguibile, tutto quanto. E vedere ovviamente il percorso e poterlo anche aprire. Nel caso si tratti per esempio di una cartella. Come vedete è veramente istantaneo. Nel momento in cui scrivo lui già ricerca e trova tutti i file con quel nome. Quando vi serve se dovete trovare un file che sembra sparito potete aprire Everything e iniziare a cercarlo. Se è ancora all'interno del vostro computer fidatevi che lo troverete. Ora passiamo al programma più pesante senza dubbio della classifica e sto parlando di DaVinci Resolve. DaVinci Resolve è un programma di video editing professionale e gratuito. Secondo me assieme al programma HitFilm Express 4 che vi ho già mostrato sul mio scorso video sono i migliori programmi di video editing gratuiti per computer. Questo perché vi mettono a disposizione praticamente tutti gli strumenti a volte anche di più di programmi a pagamento tutto gratuitamente. DaVinci Resolve è veramente completo soprattutto per quanto riguarda le color correction. Infatti è specializzato su quell'ambito potete modificare veramente qualsiasi cosa ma vi permetterà allo stesso tempo di fare un editing veloce professionale e soprattutto non impiegando troppo tempo. Beh ovviamente se non avete mai visto prima d'ora nessun programma di video editing ci vorrà un po' per prendere mano anche con DaVinci Resolve. Però secondo me è forse uno dei più semplici da imparare e sicuramente con un po' di pratica riuscirete a fare progetti molto semplici e se volete spingervi più in là e studiare cose un po' più avanzate vi permette di fare anche questo. Il link è qui sotto in descrizione. E per concludere vi presento QtTabbar. Questo programma ci permette di utilizzare nel migliore dei modi il nostro esplora risorse su Windows 7 oppure Windows 10. Una volta installato troveremo tutte le funzionalità già all'interno del menu visualizza del nostro esplora risorse e tramite questo menu possiamo abilitare varie barre degli strumenti sempre del programma e la cosa migliore secondo me la possibilità di aprire varie finestre su più schede. In questo modo come vedete posso aprire la schermata di risorse del computer, pannello di controllo utilizzando una sola singola finestra. Ma non finisce qui perché vi dà anche la possibilità tramite questa freccetta oppure cliccando sul simbolo della cartella in questo caso di navigare tra le cartelle e i file che ci sono all'interno prima di aprirla. Oppure magari un'altra funzionalità è quella di vedere un'anteprima delle foto prima di aprirle e questo è veramente utilissimo specialmente quando avete tanti ma tanti file, png oppure jpeg e non riuscite a capire di cosa si tratta. Anche qui c'è da prenderci un po' la mano e capire le varie opzioni per le vostre esigenze ma poi vi farà sicuramente risparmiare tanto ma tanto tempo. Quindi ragazzi questi erano altri sei programmi completamente gratuiti che vi consiglio di scaricare su tutti i vostri computer. Ovviamente fatemi sapere qui sotto qual è stato il vostro preferito se li conoscevate tutti, se non ne conoscevate nessuno e fatemi sapere altri programmi fantastici per Windows che utilizzate tutti i giorni. Detto questo se il video vi è stato d'aiuto io vi invito anche a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi come sempre al mio canale mi farebbe molto molto piacere. Passate su tutti i miei social soprattutto Instagram trovate tutti i link qui sotto in descrizione. E la cosa più importante di tutte vi chiedo gentilmente di condividere questo video dovunque con tutti i vostri amici per aiutarmi a farmi crescere. E detto questo da FediTutorial è tutto noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.